Ciao a tutti ragazzi, siamo in questo nuovissimo video, scusate, è arrivato a chiudere la finestra Niente, per dirvi che oggi ho visto l'Italia giocare, in molti voi non l'avranno vista perché non aveva fregato niente visto che era una amichevole Fino a 3-1, una partita a metà già piaciuta, abbiamo giocato molto meglio nel secondo tempo Loro sono fortissimi, hanno Angolo Canté, Griezmann, Mbappé, giovalori fortissimi che noi non potremmo mai permetterci Né alla Roma, né quasi in qualunque altra squadra, forse la Juve, ma la Roma solo se magari vende qualcuno E poi non ha piaciuto gol di prova, quindi no, vabbè Quindi una partita ovviamente molto che non mi è piaciuta, loro potrebbero fare qualche gol in più Anche noi qualche gol in più perché nel secondo tempo inizia abbiamo avuto un po' di opportunità e non abbiamo segnato Un 3-1, un 3-1 che rimembra il 3-1 fatto a Bari con Ventura Ma diciamo che quella squadra era peggiore di questa Avevamo giocato anche la male Per oggi nel secondo tempo ho visto qualcosa, non siamo riusciti a fare più gol Però qualcosa si è visto, ci stiamo muovendo Certo, noi non andiamo in mondiali, quindi non abbiamo quella cattiveria Non abbiamo lottato poco C'erano giocatori che secondo me hanno sbagliato proprio con la formazione Non può mettere in Mandragora, Caldara e Berardi che non hanno mai giocato Mandragora che è uno che è arrivato quest'anno in nazionale E perché è arrivato col coltone sarebbe manco manco arrivato Mandragora non mi è piaciuto per niente Berardi, idem Spero che non venga mai alla Roma, che lo stanno proponendo alla Roma Chiesa mi è piaciuto tanto Palotelli ha fatto un sacco di cose ma purtroppo forse doveva essere cambiato prima Perché stavano i campi, invece doveva cambiare 10 minuti prima Forse il secondo gol lo facevamo Bonucci ok Caldara deve migliorare perché Valazionale non è ancora pronto Pellegrini ha fatto malissimo Non mi è proprio piaciuto, non si è proprio fatto vedere Sirico ha fatto qualche bella parata Lo confermerei Che altro? C'era D'Ambrosio? Zero, via Ha fatto un po' schifo Ok Vabbè E Che era l'altro? Quell'altro lato? Desciglio Pure lui non mi è tanto piaciuto E che altro c'era il centrocampo? Ah Giorginio Ma qualcosa l'ha fatta Ma sinceramente non mi è piaciuta Mi è piaciuta molto più quella di Sangallo Che ha giocato con la voglia I giocatori più esperti Non mi puoi tenere Insigne fuori E mettermelo alla fine Non lo puoi fare questo Non puoi mettermi Berardi alla fine Insigne e Chiesa Devono starci Tutti e due Perché tutti e due devono stare E devono giocare Diciamo che Diciamo che non so chi Sarebbe stato peggio oggi Se mettere Se fosse stato convocato Mettere o Candreva O Berardi Sinceramente Perché Candreva C'è il concorso del 100 Però comunque 8 assist La fatta Giovanni l'Inter Berardi Berardi non ho mai giocato Con una nazione maggiore Non ho mai fatto niente di importante Quindi Non lo so No Una partita veramente sciarba Io spero che Con l'Olanda Potremmo riscattarci Mancini oggi non mi è piaciuto Purtroppo Cioè secondo me stasera Stasera Ah sì Ok Poi avevi messo Al posto di Caldara Avevi messo Rugani Nei Rugani E Romagnoli Poi E poi al posto di Di Pellegrini Potevi mettere Buonaventura E no Anzi no Al posto di Mandrago La mettevi Buonaventura Al posto di Pellegrini Mettevi Cristante Che stava pure per segnare Poi al posto di Berardi Mettevi Insegne E scambiavi con Chiesa E al posto Di Ambrosio Mettevi Zappacosta E vi è fatto La formazione perfetta Io veramente Non so che dire Mancini si deve dare una svegliata Perché se no Alla prossima lo cacciano Questo Cioè Cioè non ha giocato male Non ha fatto giocare malissimo la squadra Però Non puoi perdere 3 a 1 Non puoi perdere 3 a 1 Cioè No Cioè ti devi dare una svegliata Seppure la prossima Andrà male Non Non lo so Perché Ok Cioè Ok vincere con Vincere con Come si chiama Con Con l'Arabia Saudita Ma l'Arabia Saudita È vinto 2 a 1 Ma vabbè Il secondo valo Il primo valo L'abbiamo regalato a loro Però È una squadretta E E poi non puoi Se non puoi fare una figura del genere Cioè Spero che Spero veramente che Con l'Olanda Facciamo bene Che con l'Olanda Non si è qualificata Almeno così Facciamo vedere Che siamo tornati Perché Perché non voglio Cioè perché non voglio vedere Una 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 squadra Una squadra Pure più forte Di quella che In alcuni casi Di quella che c'aveva Conte Che però Fa più skill Cioè che però Non riesce Non riesce a fare niente Quindi Cioè Veramente Io non lo so Comunque se volete Pure il post partita Del 4 giugno Nella Nella partita con l'Olanda Che giochiamo a Torino Che vedrò sempre da casa Ovviamente E Se voi Cioè Facciamo 5 like Io ve la porto Anzi No facciamo così Allora 5 like Entro domani A mezzogiorno No Scusate Quattro like Entro domani A mezzogiorno E Condividete E niente Goaloo Goaloo A mezzogiorno A mezzogiorno